Eccoci qui per l'unboxing e la recensione di questa cover per iPhone 14 Pro marca Otterbox. Prezzo al momento della recensione siamo a 49 euro e 99 centesimi. Otterbox un marchio che io ho sempre usato e conosco per la sua elevata qualità. Allora, andiamo subito a vedere il packaging. Il classico packaging della Otterbox è molto piccolo, ridotto all'osso, leggiamo però subito e sin da subito come sia compatibile per MagSafe. Notiamo qui nel lato la peculiarità che è il grip. Che cos'è? Guardiamo un attimo assieme già dentro la confezione. Tiriamo fuori e automaticamente possiamo ottenere il telefono in questo modo, senza farlo cadere. Benissimo. Leggiamo subito che è un meal standard, quindi su standard militare, testato. Testato per diverse cadute. Bene, andiamola ad aprire, rompiamo il sigillo di sicurezza della Otterbox, di questa cover. e andiamo subito a vederla assieme. Tiriamola fuori. Vediamo anche cosa c'è al corredo. Cosa notiamo? Vediamo subito. Notiamo che i materiali sono pienamente compatibili con il 5G. Che significa questo? Significa che i materiali di questa box, della Otterbox, non andranno a interferire con la ricezione in 5G. Quindi questa è un'ottima qualità di questo prodotto. Dopodiché abbiamo il foglio della garanzia, il warranty card. Andiamo ad analizzarla subito assieme, questa piccola cover. Notiamo sin da subito come, ok, gli angoli siano rinforzati. Bene, la parte posteriore, questa qui, presenta una parte meno spessa, fatta in maniera tale da poter utilizzare a piedi il MagSafe. Ottimo bump, ottima fuoriuscita qui per quanto concerne le denti. I tasti sono ben saldi perché fanno parte della struttura stessa. Devo dire, già così da un senso di elevata solidità. Guardate, è difficilissimo piegarla. Quindi una cover davvero, davvero rigida. Davvero, davvero dura. Bene. Metterò dentro il terminale, il telefono e andremo a vederla assieme. Allora, eccoci qui, ho testato un pochino la cover, cover montata, andiamola a vedere assieme. Notiamo come ci sia una buona apertura per l'inserimento del dito per la vibrazione. Come? Vedete, c'è il giusto spessore per non far andare a sbattere direttamente il vetro di protezione o lo schermo. Infatti, riesce da tuttire abbastanza. Su mano, diciamo che il telefono risulta lievemente più grande, però c'è un buon grip, questo è da dire. Abbiamo un ottimo grip. Contando anche la presenza di questo piccolo gadget. Che ci permette comunque, vedete, di tenere ben saldo il telefono. Se si fanno escursioni, foto, video, dobbiamo avere delle posizioni un pochino strane nel farle. Guardate, risulta davvero, davvero ottimo. E poi si chiude in questo modo. Ottima cover per gli impatti. Devo dire, la qualità della Hotterbox in questa cover si vede tutta bene. Allora, che cosa posso dire in più di questo? Che la mia valutazione del prodotto è realmente di 5 stelle. Sì, il prezzo è lievemente alto, ma il prezzo corre al pari passo con la qualità. Spero di esservi stato utile. Ed è un prodotto che davvero consiglio.